Nessuno canta in chiesa per soldi, lo si fa per passione e per una ricerca profonda dentro di sé. Alexis Cazzaros è il maestro e direttore del coro della Cattedrale Ortodossa di Atene. Già a otto anni seguiva suo padre, sacerdote nella chiesa del suo paese, e imparava a cantare gli inni religiosi. Nella chiesa ortodossa i sacerdoti possono sposarsi e avere una famiglia. A vent'anni studiavo giurisprudenza e sono andato alla Cattedrale di Atene per incontrare il direttore di allora, il famoso Spiros Peristeris, che era una figura nota nella chiesa ortodossa. Mi ha accolto come se fossi suo figlio. Dopo cinque anni di lezione private a casa sua, mi ha spinto di iscrivermi al Conservatorio di Atene per ufficializzare i miei studi di musica. La musica bizantina fonda le sue radici culturali nella musica greca antica. Prende il nome da Bizanzio, la capitale dell'impero romano d'Oriente, che sarebbe poi divenuta Costantinopoli. La musica bizantina è caratterizzata da otto tonni diversi. Si tratta di otto diversi modi di cantare, in base al significato e al senso di ogni inno, che cambiano ogni domenica. Per poter riprodurre e tramandare il vastissimo repertorio di musica bizantina, nel 1814 i tre grandi maestri della musica sacra, Gregorio, Crissanto e Curmusios, crearono un sistema di dieci caratteri, di cui sei ascendenti e quattro discendenti. Sistema in uso ancora oggi. Scrivere, leggere e interpretare la musica bizantina richiede uno studio accurato e impegnativo, sotto la guida di un maestro nel coro della chiesa. Per una conoscenza completa e compiuta, chi si dedica a quest'arte frequenta solitamente il conservatorio, ma anche qui si sente il contraccolpo della crisi economica che ha colpito la Grecia e il numero delle iscrizioni è diminuito. Col passare del tempo sempre meno studenti si iscrivono al conservatorio. Questo è dovuto alla crisi economica che spinge le famiglie a ridurre le spese per le attività secondarie. Quest'anno abbiamo anche dovuto cancellare alcune classi per mancanza di studenti. Questa audia mi honno dei matitei. Fin da bambina seguivo mio padre, un cantante, in chiesa. La musica mi emozionava e così ho voluto studiarla. Sono molto orgogliosa di poter cantare in chiesa e recitare la parola divina. La musica è sempre stata un rifugio dai problemi quotidiani, soprattutto la musica bizantina che è recitare le parole divine di Cristo per l'amore, la giustizia e la dignità umana, valori universali e senza tempo. La musica mi emozionava e così ho voluto studiarla.